E' andata al Canavese Volley, in finale contro l'Aurora Venaria, la vittoria nel terzo Memorial Enzo Mattioda, organizzato dalla ASD Pallavolo Castellamonte. Per due giorni, sabato e domenica, al Palazzetto dello Sport di Castellamonte si sono affrontate le formazioni under 16 femminili delle padrone di casa della Pallavolo Castellamonte, del Calton, dell'Aurora Venaria, della Finimpianti Rivarolo e del Canavese Volley, in un girone unico all'italiana, che ha visto le ragazze impegnate in confronti combattuti e tecnicamente validi, che hanno confermato il Memorial Enzo Mattioda come uno dei migliori tornei di Pallavolo a livello provinciale. Una iniziativa con la quale la ASD Pallavolo Castellamonte ha voluto insieme riproporre il confronto fra le giovani atlete, ricordare la figura dell'ingegner Enzo Mattioda e ringraziare la sua famiglia per quanto ha fatto e sta ancora facendo per il territorio canavesano. Una full immersion nel volley femminile che si è conclusa alle 19 con la premiazione finale ed una vera e propria festa di colori con un bellissimo colpo d'occhio dagli spalti gremiti quando le atlete hanno aperto i loro ombrellini rossi, bianchi e verdi.